Siamo a Castaniero, questo bellissimo posto a 350 metri d'altezza, temperatura oggi freddina, rigida, siamo sui 2 gradi. Tutto da vostro sito ragazzi, a Bombazza! Siamo a Castaniero, questo bellissimo posto a 350 metri d'altezza, temperatura oggi freddina, Siamo a Castaniero, questo bellissimo posto a 350 metri d'altezza, temperatura oggi freddina, Siamo a Castaniero, questo bellissimo posto a 300 metri d'altezza, temperatura oggi freddina, Siamo a Castaniero, questo bellissimo posto a 300 metri d'altezza, temperatura oggi freddina, Siamo a Castaniero, questo bellissimo posto a 300 metri d'altezza, temperatura oggi freddina,